Scavalcano, i ragazzi sono soprattutto adolescenti, ubriachi, con le bottiglie, entrano dentro e quello che poi fanno poi si vede. E' amareggiato e deluso Don Gianfranco Casagrande. Il parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto, al Lido di Fano, ci ha mostrato che cosa hanno combinato ancora una volta i vandali. Sabato notte i gnoti hanno preso di mira una raffigurazione della natività, sistemata nel piazzale vicino all'ingresso della chiesa. L'opera, che è stata spaccata nella parte superiore, è stata realizzata con l'aiuto dei catechisti, di un gruppo di laici, dei pescatori fanisi che hanno procurato alla parrocchia una rete da pesca e una batana, la tradizionale barca e legno a fondo piatto. L'obiettivo era quello di lanciare un messaggio sul fenomeno dell'immigrazione, tematica spesso affrontata anche da Papa Francesco. Abbiamo voluto collegare l'esterno, il presepio esterno, Cristo che accoglie tutti nella sua barca, con quello interno della chiesa, che verte sulla tematica tipica dell'anno santo della misericordia. All'interno del presepio c'è infatti tutta una scalinata per poter salire sulla barca di Cristo e si sale attraverso l'esperienza delle opere di misericordia spirituali e corporali, messaggio di speranza, di fiducia e di ripresa. Un messaggio evidentemente non recepito da questi vandali o semplicemente ignorato o non condiviso. Fra l'altro non è nemmeno il primo atto vandali come suo assegno nella chiesa e nel quartiere. Più volte infatti vi abbiamo raccontato di altri episodi, come quello accaduto nel mese di giugno, quando un gruppo di ragazzi, per uscire con l'auto parcheggiata nel piazzale, ha rotto l'apertura automatica del cancello. O ancora quando mesi prima qualcuno ha rovesciato le fioriere, strappato un cartellone affisso dalla parrocchia, divelto i cartelli stradali nella via di fronte e spaccato gli specchietti delle auto parcheggiate. Anche se ancora non sono stati individuati i responsabili, questa volta per fortuna almeno una parte del presepe è stata recuperata. Il parroco ora offre una ricompensa a chi dovesse ritrovare anche quella mancante. Ieri mattina uno dei signori hanno ritrovato la rete buttata verso il ponte vicino al canale. La testa della Madonna era qui buttata vicino alla ferrovia. Non riusciamo a ritrovare invece la sagoma di San Giuseppe, che probabilmente la gente si è messa alla ricerca, perché anche ieri durante l'omeria della messa ho invitato la popolazione a ricercare questo pezzo, anche perché la gente è rimasta offesa da questo gesto vandalico, perché ci teneva a questa presenza di fede e di speranza qui nella zona del Lido. Ieri mattina le persone che sono venute a messa erano molto addolorate, rattristate, quasi un po' in preda con l'angoscia, la sfiducia. Diciamo che siamo indifesi, nessuno ci protegge, non riusciamo a trovare la strada per proteggere un po' le cose più belle che anche noi facciamo. Grazie 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 Grazie